Un'intensa attività quella che ha visto impegnata la polizia in questi mesi in sinergia con le altre forze dell'ordine per incrementare la sicurezza percepita dei cittadini. Un bilancio di fine anno, quello tracciato dal questore Bruno Megale caratterizzato da un decremento dei reati in genere, eccezione fatta per quelli predatori nel periodo compreso tra il 1 gennaio e il 30 novembre. 73 le persone tratte in arresto in flagranza di reato e 101 a seguito di provvedimento dell'autorità giudiziaria. 1676 denunciati stato di libertà. Sequestrati 57 kg di ascesse, 3,66 kg di marijuana, 372 g di cocaina, 3 litri di metadone e 4 g di eroina. Alta l'attenzione anche sulla dispersione scolastica con 1673 episodi segnalati e 58 casi di allontanamento di minori. Oltre 6.500 i fotosegnalamenti, tra cui molti migranti, un flusso costrante e continuo che ha visto l'impegno di numerose risorse della polizia, con oltre 2.969 cittadini stranieri giunti al Cara trasferiti in altre regioni e 1.300 trattenuti al CIE, rimpatriati con accompagnamento coattivo. L'ultimo anno i dati dicono che c'è stato un oggettivo incremento delle presenze di immigrati. È un fenomeno epocale oggettivamente, quindi Caltanissetta pur non essendo una città costiera non è esente da questo tipo di fenomeno. Però devo anche dire che non c'è un aumento dell'incidenza criminale connessa alla presenza degli stranieri. Non posso, non ho dei segnali in tal senso. È chiaro che la popolazione deve anche abituarsi a un fenomeno che è completamente nuovo. Abbiamo fatto uno sforzo importante in questi ultimi mesi, abbiamo concordato a livello di comitato in prefettura e di riunione tecnica di coordinamento una serie di interventi che vadano in qualche modo ad incidere sulla percezione di sicurezza dei cittadini. Quindi abbiamo anche per la situazione contingente internazionale, congettivamente un po' pericolosa, abbiamo aumentato tantissimo i controlli al centro, al centro storico. E non solo al centro storico, tutti i luoghi di assembramento, tutti i luoghi di incontro, tutti i luoghi di raduno che potenzialmente costituiscono dei obiettivi per attività di tipo criminale. Si è lavorato molto sinergicamente con i vigili e con altre forze di polizia per andare in qualche modo a controllare i quartieri diciamo un po' più degradati del centro storico e a mio modo di vedere alcuni risultati cominciano già a vedersi. Due alle operazioni di polizia, Malleus e Redivivi, che hanno colpito duramente la criminalità organizzata di Gela legata al clan Rinzivillo. Un fenomeno che vede una nuova manovalanza. Le nuove leve sono sempre più giovani, quindi le organizzazioni criminali si rigenerano, hanno una capacità incredibile di rigenerarsi nel territorio e vanno a reclutare o ad attirare persone sempre più giovani e questo in prospettiva è un fenomeno preoccupante. Non è bastata la rottura tra il Movimento 5 Stelle e il sindaco di Gela Domenico Messinese per far cessare il fuoco. All'indomani del provvedimento di espulsione del primo cittadino dal Movimento dei Grillini arriva la notizia da parte del gruppo consigliare del Movimento 5 Stelle che gli stessi hanno accantonato la somma di 3.600 euro da impegnare per la realizzazione di un progetto avente utilità per la comunità di Gela, come si legge nel comunicato stampa. La somma consisterebbe in una parte dei gettoni di presenza ricevuti fino al dicembre 2015 dai consiglieri comunali Vincenzo Giudice, Angelo Amato, Simone Morgana e Virginia Farruggia e inoltre nella somma sono confluite parte delle indennità complessive ricevute dagli ormai ex assessori Chetti Damante, Pietro Lorefici e Nuccio Di Paola. Ma è proprio il taglio degli stipendi e delle indennità uno dei campi in cui imperversa la battaglia all'interno del Movimento 5 Stelle anche sui social network. Il vice sindaco Simone Siciliano parla di ipocrisia e rilancia. Come mai i tre assessori non hanno proceduto alla riduzione dello stipendio? I video dei consigli comunali dimostrano che l'amministrazione per voce del sottoscritto ha dichiarato che provvederà a dare seguita alla rimodulazione degli stipendi nei modi e nei tempi opportuni compatibili con la legislazione italiana. Tuttavia c'era in giunta chi non lo vedeva. Questo non è tutto. In queste ore si attende infatti il ricorso del primo cittadino di Gela, Domenico Messinese, avverso il provvedimento di espulsione dal Movimento 5 Stelle che del mancato taglio allo stipendio ha fatto il suo cavallo di battaglia. Sì, stiamo istruendo un ricorso perché io mi sento 5 Stelle e noi siamo 5 Stelle, siamo un'amministrazione 5 Stelle e essere additati di qualcosa di diverso sinceramente pesa. Pesa soprattutto per i tanti italiani che hanno creduto in questo movimento come il sottoscritto e come tutti i componenti dell'aggiunta. Quindi faremo il nostro ricorso dando la verità reale. Essere 5 Stelle vuol dire essere prima informato, prima di parlare. Questo devo dire che ultimamente sta avvenendo meno. Quindi ci è sembrato doveroso per tutte quelle persone che ci hanno votato di dare una risposta, una risposta dando le nostre spiegazioni a questo evento increscioso, pretestuoso, soprattutto anche nelle motivazioni. Poi vedremo come si evolverà la situazione. Però è chiaro che farci invangare in modo gratuito non lo permettiamo a nessuno. Sono rimasto molto deluso per l'ipocrisia che ho notato dietro questa azione, azione che ricordo che in realtà è formata da un piccolo numero di persone. Persone che come tali sono fallaci e che bisogna tenere conto. Credo che nessuno è unto da un signore e che bisogna comunque, prima di parlare, analizzare realmente i fatti in modo tale di avere un'idea chiara. Quello che mi dispiace, fra le altre cose, è questo stilicidio mediatico, questa istigazione a metodi sicuramente brutali nei confronti di una giunta che non se li merita sicuramente e che sono lontane, ma veramente lontane dalla idea del Movimento 5 Stelle, dove noi parliamo di onestà, dove noi parliamo di consapevolezza, dove parliamo di collettività. E' stato attivato questa mattina, allato alla zona industriale di Gela, l'impianto di compostaggio alla presenza del sindaco di Gela, Domenico Messinese, del vice sindaco Simone Siciliano e di altri sindaci del comprensorio. Finalmente parte un impianto che è rimasto stand-by per troppo tempo, erano soldi dei cittadini, soldi della comunità europea, che spesi da diversi anni fa, quasi dieci anni, e che non sono stati mai utilizzati. Grazie all'ATUCL2, all'ARPA, all'ASP e alla regione siciliana siamo riusciti a superare tutti quei problemi di autorizzazione burocratica che non permettevano l'avvio di questo impianto. Questo è in mente importante perché è un passo per riuscire a far diventare i rifiuti una fonda economica importante, una fonda economica che sta nel territorio, nel nostro territorio e quindi parliamo con quei principi di economia circolare che sono fondamentali nello sviluppo moderno di tutte le attività. È un impianto che consentirà di trattare i rifiuti organici della nostra città e non solo ma anche degli sfalci. Questa è una delle opere che permette, attraverso l'impianto di compostaggio, di avvicinarsi all'obiettivo rifiuti zero. Si tratta di una serie di impianti da cui il trattamento dei rifiuti può portare alla rivalorizzazione appunto degli stessi rifiuti sia come compost, sia come ad esempio materiale per estrarre gli oli, per biocombustibile oppure per biogas. Questo è uno dei primi passi, mettendo in moto già l'esistente, ma c'è in programma da parte non solo dell'amministrazione di Gela ma di tutta la SR4, di poter avere noi altri impianti come impianti anaerobici per la produzione di sin gas, ma anche il trattamento dei rifiuti elettrici, cosiddetterà, e di altre frazioni che normalmente noi portiamo per adesso fuori dal nostro territorio. Noi vogliamo che il nostro territorio abbia le piattaforme per gestire i rifiuti e quindi di poter avere una ricaduta non solo economica ma anche occupazionale. Questo impianto partendo adesso già dalla possibilità a 4-5 persone di poter avere un posto di lavoro. Non è forse molto ma è importante, ogni singolo posto di lavoro per noi è importante e questa è una cosa che bisogna sottolineare. È un obiettivo ambizioso, si parte dal centro di compostaggio per arrivare a numeri che sono ormai nordici, non siciliani. La Sicilia è al 5% mentre ci sono comuni come Niscemi che superano di gran lunga il 50%. Significa non pagare cotassa, significa abbattere i costi e significa avere un proprio centro di compostaggio. Questa secondo me è la prima fase. Ora bisogna lavorare sulla discarica di timpazzo, lavorare sui CCR dei vari comuni. Ad esempio in questo momento nella mia città si sta realizzando il carotaggio per vedere se c'è la possibilità di continuare a montare questi centri. Noi siamo convinti che da qui a fine del 2016 saremo il lato, o meglio la SRR più virtuosa che c'è non solo in Sicilia ma in gran parte d'Italia. È un progetto molto importante che parte a lontano, dimostra ancora una volta come lato CL2 abbia lavorato bene durante questi anni. Infatti non è un mistero che lato CL2 di cui facciamo parte noi insieme a altri sette comuni è il lato più virtuoso della regione Sicilia. Questo è l'ennesimo passo nell'ambito del compostaggio che ci permetterà, speriamo tutti, di abbattere i costi. Ovviamente un giorno importante per noi che scarichiamo l'umido molto lontano ci permetterà di ridurre di cui aveva i costi, quindi abbattere ancora di più la tariffa ed essere più vicini ai cittadini avendo un servizio ottimale. Il punto di forza soprattutto di questo comprensorio è la sinergia che c'è fra tutti noi sindaci dove unitariamente portiamo avanti quel progetto di pulizia, diciamo in termini ambientali di un efficientimento sano per quanto riguarda i rifiuti. Si sono raggiunti risultati ottimi per quanto riguarda la differenziata. Nell'intero comprensorio di cui apparteniamo siamo nella media del 40% e credo che in Sicilia sia una delle più alte percentuali che esiste. Oggi inauguriamo questo impianto di compostaggio, un altro traguardo che viene raggiunto dall'SRR, dal lato, quindi per noi rappresenta un momento importante e per tutti i sindaci che li hanno preso parte. Dopo vari inchippi burocratici finalmente oggi si riesce a inaugurare questo centro di impianto di compostaggio. Naturalmente i vari comuni avremo delle grosse difficoltà, abbiamo anche delle difficoltà in corso, tipo il mio, che sicuramente sulla differenziata ancora non abbiamo raggiunto il top ma è il nostro dovere impegnarci affinché possiamo fare un'opera migliore e quindi portare anche la nostra comunità a valori alti e differenziati. Lo ritiene l'uovo di Colombo e il suo auspicio è che possa dare uno slancio al fine di uscire dalla crisi sociale e ambientale che Gela sta vivendo. È il pensiero dell'imprenditore Davide Melfa, rientrato in città dopo un'esperienza lavorativa in Spagna. Ha creato, grazie ad una cordata di imprese, un progetto tutto siciliano. Si tratta dell'olio di semi di canapa biologico, è ricco di omega 3 e acido gamma linoleico. Si potranno aiutare a mantenere bassi i livelli di colesterolo e tricliceridi nel sangue e a mantenere o regolarizzare l'equilibrio ormonale. Si possono inoltre purificare i terreni. La cordata di imprese impegnate in questo nuovo progetto siciliano sono la nuova impresa spagnola Sicil Canamo, la Make Services, l'Università Agraria di Catania e altri investitori. La canapa che non è la cannabis che si confonde comunemente ma è della stessa famiglia. È una risorsa che potrebbe, a Gela come nel mondo, garantire un'alternativa produttiva. Non solo produttiva perché dà la possibilità da millenni di poter generare delle materie prime e delle risorse importantissime, anche perché dà la possibilità di garantire un tema fondamentale che è la salute, perché è anche una forma di medicinale. È una pianta che bonifica il terreno e quindi riesce ad assorbire le diossine e i metalli pesanti, immaginiamo per cui a Gela che valore potrebbe avere. È una pianta altamente sostenibile perché non necessita pesticidi e necessita poca acqua, quindi ideale per Gela ma ideale nel mondo. La canapa industriale è stata utilizzata in tutto il mondo fino al 1940 quando fu soppiantata dall'avvento della petrolchimica, da cui si iniziarono a ricavare combustibili medicinali, farmaci, tessuti che insieme alla carta e altri migliaia di prodotti erano sempre stati prodotti dalle coltivazioni di canapa. Questa pianta riesce ad assorbire la diossina e i metalli pesanti dei terreni contaminati, permettendo bonifiche naturali e a basso costo. Ogni prodotto ricavato dalle coltivazioni di questa pianta produce occupazione e benessere. Giuseppe Nicosia, educatore alimentare. Abbiamo il seme di canapa che è uno dei dei alimenti più nutrienti al mondo. Dal seme di canapa ricaviamo questo preziosissimo olio, questo ad esempio è uno dei 50.000 derivati, che ha per noi un utilizzo alimentare ma in realtà ci nutre, una medicina quasi, perché riesce a risolvere tanti i nostri problemi come i livelli alti di colesterolo o i trigliceridi. Quest'olio si usa anche nella cosmesi, è eccezionale da passare sulla pelle contro la pelle secca, la pelle è anche irritata dal sole o dal freddo in questo periodo. Quindi sostanzialmente davvero abbiamo, torniamo ad avere, da questa pianta che è stata per noi risorsa, ricordo sempre che l'America è stata scoperta attraverso, grazie alla canapa, perché sulle caravelle paradossalmente c'era più canapa che legno. A marzo avranno inizio le prime coltivazioni su 50 ettari di campo a gel a fini di bonifica e come assicura Davide Emelfa ricaveremo dalla stessa canapa coltivata dei biomattoni ed un composto di calce e canapa che viene impiegato al posto del cemento e in alternativa produrremo etanolo di canapa e biometano. Previste coltivazioni differenziate in tutta la Sicilia. Ai piedi dell'Etna si produrrà canapa per alimenti e sarà costruito un ecovillaggio energeticamente autosufficiente, dove sarà applicato il core business del turismo ecologico alla cultura della canapa. Anche il Comune di Gela si dota del codice di comportamento della pubblica amministrazione secondo quanto indicato nel Piano Nazionale Anticorruzione. Il codice si applica a tutto il personale a tempo indeterminato, determinato, determinato collaboratori e consulenti del Comune e delle sue imprese fornitrici di beni e servizi. Un atto rilevante che adottiamo superando i ritardi del passato ha commentato il sindaco Domenico Messinese con le dovute finalità di assicurare la qualità dei servizi, la prevenzione dei fenomeni di corruzione, il rispetto dei doveri costituzionali di dirigenza, lealtà e imparzialità. Responsabile della prevenzione della corruzione al Comune di Gela è il segretario generale Pietra Morosia che ha tra l'altro proposto alla Giunta Municipale la delibera sulla quale ha espresso parere favorevole di regolarità tecnica e correttezza amministrativa. La sua conformità è stata invece siglata dall'organismo indipendente di valutazione. Il codice è composto da 21 articoli ai quali è stata data ampia diffusione e ancora più restrittivo rispetto alle linee guida da seguire, specie nella parte in cui si fa riferimento a regali, compensi e altre utilità per il dipendente comunale. Intanto è stata pubblicata nella sezione amministrazione trasparente del sito del Comune di Gela la procedura aperta alla consultazione per l'aggiornamento del piano triennale di prevenzione della corruzione 2016-2018, comprensivo del programma triennale per la trasparenza e l'integrità 2016-2018. I cittadini possono avanzare proposte e osservazioni con l'apposito modello scaricabile dal sito e trasmetterlo entro il prossimo 13 gennaio al segretario generale del Comune per posta elettronica, alla mail segretario generale chiocciolacomune.gela.cl.it o per posta ordinaria. Si sono riuniti per discutere e trovare risoluzioni adattaviche problematiche legate alla disabilità. Sono i rappresentanti dell'Associazione Progetto H che hanno incontrato il neassessore comunale Licia Abela, il dirigente Maria Morinello e il rappresentante dell'Unione Cechi Italiana Linda Legname, il consulente legale dell'Associazione Progetto H, Calavvocato Paolo Capici. Abbiamo forse finalmente definito la questione del trasporto dei vouchers che è stata un pochettino complicata questa strada però alla fine pare che ci siamo riusciti. E' una cosa provvisoria perché il Comune deve organizzare un bando come succedeva negli anni precedenti e quindi queste sono scelte che fa il Comune. L'importante è che i disabili abbiano il servizio di qualità buono. Abbiamo affrontato per l'ennesima volta il problema dell'assessorato ai servizi sociali perché siamo stati ospitati nella sede del segretariato sociale che non è per niente adatta né dignitosa per quanto riguarda l'accesso dei disabili in carrozzina. Io chiedo al sindaco e all'assessore competente che trovino immediatamente la soluzione che ha portato a di mano cioè spostare l'assessorato più avanti di 100 metri dove c'è il territorio d'ambiente a pieno terra se entro 10 giorni non farà il nostro spostamento penso che faremo una pretesta un po' più accentuata. Inoltre abbiamo programmato con l'assessore il programma per gli accudenti perché è scaduto e quindi si deve rinnovare e il comune deve trovare i fondi perché l'assistenza venga fatta 4 ore su 4 e non 1 ora su 4 per evitare che vengano chiamate le mamme ad accudere i bambini. In ultimo abbiamo programmato a medio termine la revisione dei servizi che riguardano i soggetti non autosufficienti per la partura di centri per grave e di centri di orne. Si concluderà domani la seconda mostra di presepi allestita all'interno del Palazzo di Città Presepi in Comune promossa dalla Proloco di Gela grazie all'importante collaborazione degli istituti scolastici locali. La mostra allestita è inaugurata lo scorso 19 dicembre a riscosso un notevole successo di pubblico. Molto apprezzate le composizioni della Natività frutto dell'impegno degli studenti e dei loro docenti significativi temi trattati dalle scuole immigrazione, rispetto dell'ambiente, giubileo della misericordia eccellenze del territorio, forza evocativa delle tradizioni Mercoledì 6 gennaio a partire dalle 17.30 sono previsti esibizioni musicali con Samuele Mammano intrattenimento, degustazioni dolci e salate grazie al pasticcere Angelo Cassarino e al panificatore Michael Cassarino e la pesca dell'epifania con l'estrazione dei biglietti vincenti. Numerosi i premi messi a disposizione dai commercianti che hanno sposato il progetto della Proloco. I numeri vincenti saranno poi pubblicati sul televideo di Canale 10, sul sito www.prolocogela.com e sulla pagina Facebook Proloco Gela. In occasione della giornata di chiusura della mostra dei presepi è prevista l'accoglienza che, come già avvenuto per l'inaugurazione, sarà curata dagli studenti dei corsi diurni e serali dell'Istituto Alberghiero Luigi Sturzo di Gela, diretto da Grazio Di Bartolo. Gli allievi sono coordinati dal professore Emiliano Sigona. Durante la serata di domani saranno presenti il sindaco, gli assessori e consiglieri comunali, dirigenti scolastici, prevista anche la presenza dei responsabili della Proloco di Delia ai vertici del Lions dei Castelli di Caltanissetta, con i quali sarà suggellato un protocollo di intesa al fine di valorizzare le bellezze del comprensorio gelese e nisseno. Prosegue la staffetta benefica per sostenere la ricerca contro le malattie genetiche. Un maxi assegno e altrettanta generosità per Teleton è stata quella dimostrata dal Lions Club Caltanissetta Città dei Castelli, preseduto da Fabiola Safonte, che ha consegnato a Paolo Lapaia del coordinamento Teleton di Caltanissetta il ricavato della raccolta fondi, più di 3.300 euro. Un'iniziativa corale per il club che ha visto coinvolti numerosi comuni della provincia attraverso la realizzazione di mostre d'arte e serate di beneficenza, volte a sensibilizzare i cittadini alla donazione. La stessa raccolta fondi Teleton è stata comunque un'attività molto diversificata in quanto ha coinvolto, sì, i comuni, le amministrazioni comunali, le prologo per l'allestimento dei banchetti, oltre che i centri commerciali. Ma abbiamo anche avuto un inaugurato e tenuto fissa per tre giorni una mostra d'arte, grazie anche alla collaborazione di due importanti pittrici, Patrizia Di Cataldo e Lidia Falzone, che hanno donato al club due quadri che poi sono stati battuti all'asta. Ed è grazie al contributo di tutti questi fattori che comunque si è riusciti a raggiungere questo risultato importante. Un importante passo in avanti per aiutare chi non si arrende davanti alla ricerca, ha commentato Paolo Lapaia del coordinamento Teleton di Caltanissetta, visibilmente soddisfatto ed emozionato per la solidarietà dimostrata dal club service nissenu. Teleton in questi ultimi vent'anni ha spostato molto in avanti l'ambizione dalla cura precoce, anche dalla diagnosi precoce alla cura e per alcune immunodeficienze congenite. Già questo è stato fatto. Non sono stati fatti solo i banchetti, ma Teleton ha coinvolto tante altre persone. Quindi io non posso fare altro che essere proprio contento di questo momento e di essere riuscito a far sì che Teleton quest'anno per la provincia di Caltanissetta riuscirà ad avere, nei cinque anni che io sono qui, il ricavato più alto dal 2010 a questa parte. Grazie per la visione!